Coraggio, amici! È ora di dedicarsi al topo allenamento! Coraggio! Dobbiamo alzarci! Tra poco inizieremo insieme ad allenarci! È ora! Venite tutti qua! Il topo allenamento vi conquisterà! Ehi, topo allenamento! Ehi, topolino! Ciao, Tudas! Oggi ti ha bisogno di aiuto? Vi diamo un'occhiata! Oh, accidenti! Non sono capace! A quanto pare oggi il cowboy paperino non riesce a montare a cavallo! Secondo me gli serve un po' di topo allenamento! Andiamo! Su, su, su! Coraggio! Ciao, paperino! Vedo che hai difficoltà a montare a cavallo! Ehi, la cowboy! Conosco un topo allenamento che può esserti d'aiuto! Ecco, saltare con la corda! Coraggio, amici! Mostriamo a paperino come la corda può farlo saltare più in alto! Assicuratevi, però, di avere lo spazio sufficiente! Pronti a saltare con me? Yahoo! Prendi la corda e salta un po'! Puoi provare? Perché no! È divertente! Ci riuscirai! Osserva bene, Minnie, e lo farai! Conta i tuoi salti! Uno, due, tre, quattro! Salta ancora ed il gioco è fatto! Cinque, sei, sette, otto! Ora tu! Salta e guida! Yahoo! Ok, paperino, tocca a te saltare la corda! È divertente! Ci riuscirai! Rimani concentrato e lo farai! Conta i tuoi salti! Uno, due, tre, quattro! Salta ancora ed il gioco è fatto! Anche tu! Sei davvero bravo! Yahoo! Paperino, perché non provi ora a saltare in sella il tuo bel cavalluccio? È un piacere averti aiutato! Con tutti quei salti con la corda sei riuscito a montare a cavallo! Grazie, Amanda! E grazie a tutti voi, amici sportivi! Ce l'abbiamo fatta! Fare insieme il topo allenamento è stato un grande divertimento! Topo allenamento! A presto amici!